Terzo turno, Leo Panadol Master contro Ricky con Schoolgirl Strikers Sei tre o più, quindi mozione al cesso è trattata Un'altra Combo Due 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 Grazie. 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 Level reverser, se ti mando reverser il mio turno, guardo la prima, scelgo se te ne la io e metterla sotto. E una. Due. Due. Guardo la prima. Sto lì. Sono tre. Due. Quattro carte in mano. Due. Eh, se tu che hai lasciato un corda pieno, farà questo non so. Scanto. Ma come c'è tutto dentro? Sono sicuro. Il gioco è prima, sono sicuro. Capito di pensare. Ah ok, lei passa prima e lei. 500 globale, quando meno posso rimescolare due, se non faccio. Prende punto. Lei? Sì, vai. Ok. Reinstallate. Ok. Però non prima ti salve giù. E poi quando la bimbi è lì, se non la persona non so. Bella bella. Allora. Allora. Ok. Ok. Guardare prima. Allora, chi se? Ah ok. Ah! Questa la prima quando è entrata sono prima se nel turno male era. Bene, bene, bene. Bene, bene. Bene, da P500 alla livello 3 specifica che è questa e poi da P500 a una 1-1-1 nell'altra che gioco. No, lei no, scusa. Sono P500 a lei e P500 a tutte le rosse. Macino 2 di runner e mi sono preso 13 danni. Gioco lei. Quando la gioco scarto climax e mi sono preso. Questa è un pezzo. Climax combo con questa. Quando appoggio la climax mi tutorial la livello 3 specifica che è questa e lei si prende più 2 e mezzo fino alla fine del turno. Gioco un'altra. Gioco il suo altro effetto, parlo due, tappo, salveggio. Salveggio questa. Se ho tutto il porto rosso ha più 1000. Se ho experience 2 ha più livello e ecco la tua caipa. No? Climax qua. Appoggio il climax. Che comincia a usare il suo effetto. Usa anche il suo. Poi pesco il climax. Le telecomanzeate fanno? Allora, entrano prima, se ho lei e questo qua, se ho queste due giù, lei entrano prima, Climax fanno poi il gate, quando attacca provo uno, ti faccio un danno salveggio, e quando viene in fronte attaccata guardo la prima scelgo, so tenerla lì o scattarla. Pesco di Climax. Questa si può un po' di 2.5, lei attacca per 2, 2. Quanta è che sei? Sono un P1000 perché è tutto rosso, quindi 7, 8, 9. 9K? Sì. Hai invenzione a Clock in Core. Ah, Clock in Core perché ho XPS 2K. Quando il personaggio dà la mano al cesso prende due tappe. Quindi, quindi qua faccio il present, lo salveggio. Gioca in Core. Saido. Zero. Eh, grazie. Anche a me mi servo, magari eh. Ok, ancora. Sono giusto. Mandro cacca, cacca, cacca. Come. Tutto, qui va, non lo so. È tutto là che c'è. No, non lo so, è il seno. Con bloco, viste un seno. HoDC. Non lo so. Con bloco, con bloco. Qui va, non lo so. Non lo so. Non lo so. Grazie. 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 Sotto il campo danno ognuno a P500 le rosse, ognuno a P500 lo ha a livello 3 che fanno entrare prima e lei da P500 a lei. Quindi adesso è un 8 e mezzo, 6 e 6. Questa è quella potenziata quindi. L'altra che c'era prima hai tappata per caso. No. Lei è una... lei diventa una 5 e mezzo. Lei proprio attacco una 5 e mezzo, più 1.5 ogni volta che mi perde. Allora, rincombro. Lei è una 6, attacca. Per 1, 2. Allora. Grazie. 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 Endato in attenzione. Che si chiede se qualcuno ha trovato un backbox nero della ultraprova? No, è tuo, non glielo vedo No, non l'ho trovato, non l'ho trovato Boh, ma hai detto se la qualcuno l'ha trovato E' una roba? Eh, no, non una roba Ah, io sono delle roba L'ho trovato lui in casa Ieri no Va bene, sono tre Si, era quello di lui E lui? 8 e mezzo E' un uomo E' a 2 feste 3? 3 3 puoi 3 Quanto sono? Lei è più... è più leato Allora adesso... Pronto? 2 6 Sopra blu 6 Piero cavallo No Ok 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 Piace poco Ok Ok 1 2 3 2 3 4 5 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 6 5 5 5 5 6 7 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 11 10 11 11 11 11 12 12 13 12 14 14 15 14 15 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.